Finalmente ce l'abbiamo fatta, Asia ha lavorato moltissimo e noi abbiamo accompagnato e in qualche maniera indirizzato questa operazione, è un'operazione straordinaria, riteniamo veramente di stare trasformando l'azienda, già l'abbiamo fatto nei vertici perché quella struttura di vertici andava ampliata e l'abbiamo già ampliata e continueremo ad ampliarla perché era troppo ristretta. E adesso stiamo mettendo mano finalmente alla base dei lavoratori con questo concorso che è un concorso di cui l'azienda aveva un bisogno straordinario, consentirà anche l'ingresso di giovani finalmente perché fino ad ora l'azienda non è mai andata sul mercato, non è mai riuscito a fare un concorso ma ha solo assorbito risorse un pochino agi, un po' anziane perché prima l'SU, poi i consorsi di bacino e ancora continueremo con i consorsi di bacino. Adesso sapremo se saranno 130, 140, 180, vedremo quanti accenteranno ma anche lì è una platea piuttosto anziana. Finalmente invece andiamo sul mercato, 500 posti nei prossimi tre anni, sarà con un concorso dove non sono previsti titoli superiori alla licenza media e quindi si rivolge proprio alla città di cui non c'è memoria, dobbiamo andare indietro della 285, forse 30 anni fa, per avere qualcosa di analogo. Finalmente l'azienda cambia faccia.